Io vi parlerò brevemente, chiaramente il contenuto è condiviso col Dottor Davanzo, dell'attività del tavolo tecnico del Ministero della Salute negli ultimi anni di attività. E questo è la mancanza del conflitto di interessi. Il Ministero della Salute già da tempo ha espresso chiare indicazioni, e un parere piuttosto deciso per quanto riguarda le tematiche dell'allattamento al seno, che è un diritto fondamentale dei bambini, come è un diritto fondamentale delle mamme, essere sostenute nella realizzazione del loro desiderio di allattare. Ecco, proprio nelle linee di indirizzo nazionale su protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, ormai lontano 2007, il Ministero riconosce, queste sono frasi prese proprio dal sito del Ministero, che l'allattamento al seno costituisce il modo di alimentare i bambini più normale e più naturale, perché ha in sé tutte i nutrienti di cui il lattante, il neonato, il lattante ha bisogno per crescere. E sottolinea anche che l'allattamento al seno offre dei benefici tangibili, dimostrati anche nella mamma. Ecco, gli effetti positivi perdurano nel tempo, va bene, e quindi fanno dell'allattamento al seno un intervento di salute pubblica molto rilevante dal punto di vista dell'efficacia e del rapporto costo-beneficio. Quindi una presa di posizione netta che esita in quello che tutti noi sappiamo, che stavo detto anche pochi minuti fa, è che la raccomandazione forte è quella di alimentare i nostri bambini al seno, esclusivamente al seno, nei primi sei mesi di vita, e poi con un'alimentazione complementare continuare l'alimentazione al seno per almeno il primo anno di vita e oltre, si spera, se la mamma e il bambino lo desiderano. Ora, che è successo per quanto riguarda il discorso del tavolo tecnico relativo all'allattamento al seno, interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno? Seguendo le linee di indirizzo, così come è, diciamo, riportato nel linee di indirizzo nazionale sulla protezione, promozione e sostegno all'allattamento al seno, che è appena nominato, è stato nell'aprile del 2008 costituito questo comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento al seno, che poi è stato rinominato con un nuovo decreto nel dicembre del 2012, appunto, tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno, che ho appena chiamato TAS, che è stato rinnovato nel maggio del 2007 e va rinnovato ogni, diciamo, una durata di due anni. Sono state attribuite al TAS funzioni di proposta e di orientamento delle tematiche relative all'allattamento e il TAS ha la finalità di proteggere, promuovere e sostenere l'allattamento e a diffondere la consapevolezza e l'importanza della cultura dell'allattamento come norma naturale di valore culturale e sociale. Lo stesso Ministero riporta, per quanto riguarda le funzioni di base del TAS, è che è necessario per ottenere tutto questo un'adeguata organizzazione ospedaliera, per esempio, viene citato in maniera chiara il Rooming In, delle pratiche, delle buone pratiche da parte degli ostetici e dei nonatologi e poi soprattutto che il personale sanitario, tutti coloro che si occupano dei bambini piccoli, possa avere una giusta conoscenza, una corretta conoscenza sulle fisiologie dell'allattazione e soprattutto delle competenze per sostenere l'allattamento una volta che è iniziato, per poterlo continuare appunto nei mesi successivi. Quindi non solo questo, ma ovviamente il TAS segue una politica di tipo collaborativo con tutti i referenti dell'allattamento che siano nazionali e locali e con le società scientifiche o comunque con tutti gli istituti con finalità scientifica. Questo è il tavolo, il Presidente, il Dottor Riccardo Davanzo, come vi ho detto, e c'è una rappresentante alla volta del Ministro della Salute, in particolare al modo della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, cui rappresentante in primis la dottoressa Greta Anaferri. Naturalmente nessun compenso, come riportavano nell'indirizzo, né di rimborso spese per, volevo precisare, per i partecipanti al tavolo. Queste sono le attività del tavolo tecnico che sono, diciamo, che sono state portate avanti negli ultimi, diciamo dal 2012, quando si chiama TAS fondamentalmente, dal 2012 ad oggi. Ve le vado brevissimamente ad illustrare. È stato proposto un documento, è stato inviato per essere presentato alla conferenza Stato-Regioni, un documento che parla del monitoraggio dell'allattamento e sono stati proposti come momenti di raccolta dati, il momento della dimissione dal punto di nascita, il momento della prima vaccinazione, perché è il momento in cui effettivamente i bambini si presentano, diciamo, in un ambulatorio medico, al momento della prima vaccinazione, vi ricordo, è intorno ai tre mesi, al momento della seconda vaccinazione tra i cinque e i sei mesi. Un altro importante, io penso, un importante documento di attività che è stata intrapesa nel 2015 è quella di fare una fotografia di cosa stava accadendo in quell'anno per quanto riguarda l'allattamento nelle strutture sanitarie che almeno sono state, diciamo, che hanno risposto nelle varie regioni italiane. E un po' si sovrappone a quello che vi ha appena detto la dottoressa Battilomo. Questa è la pubblicazione, semplicemente vi faccio, vi annoto alcuni dati, che sulle 11 regioni che hanno proposto c'è un'ampia variabilità di dati. Per esempio i bambini che vengono dimessi dal punto nascita, allattati, esclusivamente al seno, vanno dal 64% a quasi il 90%, ma con una variabilità straordinaria da 100 a 100. Per esempio nel Lazio ci sono dei centi in cui i bambini escono con l'83% allattati al seno, ma in altre strutture in cui soltanto il 20%. Non solo, ma guardate cosa succede nei tassi di allattamento andando avanti. A sei mesi, a cinque mesi, scusatemi, cioè là dove noi diciamo che i bambini dovrebbero essere allattati esclusivamente ancora al seno, per le cinque regioni che hanno risposto e che hanno evidentemente un sistema di monitoraggio, evidentemente le altre regioni con tutto l'orio di danno non hanno, non più del 29,7% dei bambini sono allattati ancora esclusivamente al seno. Penso ci sia davvero molto da fare. D'altronde soltanto 10 regioni hanno un ospedale amico del bambino. Pensate che in Italia nascono gli ospedali amici dei bambini poco più del 5% dei nati, mentre in Europa più del 30%. E' che i corsi di formazione di 20 ore, che probabilmente voi conoscete, OMS e UNICEF, sono incorporati nel curriculum studio room soltanto in tre regioni. Questi sono dei documenti che sono stati elaborati dal TAS insieme, in collaborazione con altre società scientifiche. Nel 2015 è un documento che io considero veramente molto importante, perché è una position statement delle società più importanti che si occupano dei bambini in Italia, cioè della Società Italiana di Pediatria, della Società Italiana di Neonatologia, della Società Italiana di Cure Primarie Pediatriche e di Gastroenterologia e Nutrizione Pediatrica. Con aggiornate letteratura, questo documento tocca tutte le tematiche riguardanti l'allattamento al seno e fa molta chiarezza per ognuna. Nel 2014 è stato pubblicato un articolo sul Journal of Mimo Allactation riguardante il tema allattamento e gravidanza, sfatando molte paure, cioè quelle che non si può allattare in gravidanza nei primi due trimestri di vita, ma non solo si può allattare, ma si può allattare anche nel terzo trimestre, a meno che non ci siano fattori di rischio, come potrebbe essere un ritardo di crescita intrauterino, una minaccia di parto pedemine o la presenza di gemellarità. Nel 2014 un altro documento pubblicato su European Radiology ha visto la collaborazione sia del Ministero e del TAS, quindi, con la Società Italiana di Radiologia Pediatrica, la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Neonatologia. È stato fatto uno studio molto approfondito sui mezzi di contrasto che vengono utilizzati per la risonanza magnetica nucleare e per la TAC soprattutto e la compatibilità con l'allattamento al seno, perché per la maggior parte, vi dico subito, sono compatibili. Nel 2016, a firma Riccardo D'Avanzo come TAS, a firma Professor Stronati come Società Italiana di Neonatologia e dell'Avvocato Bruscagnin, per quanto riguarda l'Associazione Vivere, è stato, diciamo, emesso e scritto questo documento che promuove, tenta di promuovere l'accesso dei genitori nei reparti di terapia intensiva neonatale, laddove il precoce contatto e lo stretto contatto tramite tecniche tipo la Kangaroo Mater Care avvicina il bambino e la mamma in un prerequisito indispensabile per l'inizio e la prosecuzione all'allattamento al seno in ultima analisi per quanto riguarda la promozione dell'allattamento nelle terapie intensive neonatali. Allora, per quanto riguarda la partecipazione del tavolo tecnico ad altri tavoli di lavoro, il tavolo tecnico partecipa al tavolo, diciamo, delle banche del latte umano donato. Voi sapete che le banche del latte umano donato, come abbiamo appena parlato, sono uno strumento importante, soprattutto nelle terapie intensive neonatali, dove il latte in materia è uno strumento preziosissimo. Ma si è visto che, al contrario di quanto si potesse credere, negli ospedali dove sono presenti le banche del latte, non si allatta di meno, ma si allatta di più. E poi c'è un documento, fatto in collaborazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco, con l'Istituto San Matteo, con il Centro Antiveleni di Bergamo e con l'Istituto di Farmacologia dell'Università di Bologna, che è una presa di posizione per quanto riguarda i farmaci da parte della donna che allatta. è molto interessante perché non solo vengono indicati con tanto i numeri di telefono degli istituti dove si possono avere direttamente informazioni per ogni farmaco, per quelli almeno più utilizzati, ci sono dati sulla farmacocinetica e note per quanto riguarda la pericolosità o meno, oppure comunque i potenziali effetti colaterali nel bambino che viene allattato. Nel 2015 è stato pubblicato un opuscolo informativo, abbiamo sentito quanto è importante pochi minuti fa, sull'applicazione della legge sanzionatoria, a livello esplicativo ovviamente, relativa alle violazioni sulla pubblicità dei sostituti del latte materno. Nel 2016 è stato invece pubblicato questo opuscolo che mi sembra fatto particolarmente bene, che contiene anche sei video tutorial, che si chiama Allattare al Seno, un investimento per la vita, che offre a chi lo vuole, è scaricabile nel sito del Ministero della Salute, appunto, delle indicazioni sulla migliore, diciamo, come dire, modalità di approccio all'allattamento, anche dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda la tematica comunicazione, da parte un video che dovremmo quest'anno, finalmente, spero, diciamo, riuscire a realizzare, che dovrebbe comparire sui media nazionali, nei vari anni è stata, diciamo, portata avanti l'iniziativa proprio sul campo, una campagna itinerante dal nome, il latte della mamma non si scorda mai, con la finalità di, diciamo, rendere partecipe la popolazione sui vantaggi, sui benefici che offre allattamento al seno, e anche proprio di informare le persone. È stata una campagna che ha toccato, come vedete, parecchie città italiane. In termini di comunicazione, durante il 2015, in occasione dell'Expo, il dottor D'Avanzo ha tenuto anche una conferenza con questo tema, in particolar modo diretto verso i policy makers delle aziende sanitarie. Ci sono, e con questo concludo, varie attività, una di altre attività, vi ricordo la prima conferenza nazionale sull'allattamentazione, che ha avuto molto successo, dove ha partecipato anche il Ministro della Salute, a maggio del 2016, ed è in corso di programmazione la seconda conferenza nazionale, la proposta di inserire un referente regionale sull'allattamento nell'ambito del percorso nascita regionale, e poi una serie di documenti che sono già di fatto stati scritti, ma alcuni di questi in corso proprio di validazione da parte del gabinetto del Ministro, sono uno, avete visto quanto è importante, sulla formazione degli operatori sanitari pre-service o in-service, prima di quanto fondamentalmente spessimo servizio nel sistema sanitario nazionale, ma anche durante il sistema sanitario nazionale. Fondamentalmente, vede la collaborazione del MIUR, perché noi vorremmo introdurre dei moduli nell'ambito dei corsi di formazione di tutte le persone che vengono a contatto, tutte, con una diversa, diciamo, come dire, approfondimento, tutte le persone che vengono, gli operatori sanitari che vengono a contatto con la mamma o col bambino, un documento fondamentalmente destinato a chi ha a che fare con i bambini, non della primissima infanzia, sull'allattamento in lunga tirata, per esempio quelli che fregolettano il nido, l'autressa Williams ne parlava poco tempo fa, pochi minuti fa, un documento che vuole regolamentare la pubblicità degli alimenti per i bambini, cioè dei latti di proseguimento, per estendere il divieto di promozione alle formule di tipo 2, questo è stato sia completato che inoltrato al Ministro, e poi, infine, perché è un tema di questo convegno, un documento sulla gestione dell'allattamento dell'emergenza, che è pronto, preparato, discusso, però ancora non ha avuto la, come dire, la consagrazione per la pubblicazione. Quali sono le conclusioni mie del TAS e del Dottor Davanzo, e che c'è ancora bisogno della, come dire, della collaborazione di tutti, e che, insomma, l'Unione fa la forza. Grazie. Grazie. Grazie.